Siamo in provincia di Vicenza e qui le aziende sono il pilastro dell'economia locale. Le aziende investono in ricerca e sviluppo per crescere ed è naturalmente molto importante avere vicino un'università che ci può aiutare in questo senso. L'università può dare la possibilità di fare progetti di sviluppo e soprattutto può darci la possibilità di entrare in contatto con giovani, giovani laureati o neolaureati che abbiano piacere o interesse di venire a lavorare nelle nostre aziende.